Gli uomini della squadra volanti della questura di Ragusa hanno arrestato Samir Ameor, 31enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale, con l'accusa di resistenza e violenza pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello. Tutto è iniziato sabato notte a Marina di Ragusa, quando sulla linea 113 è pervenuta la segnalazione di un cittadino extracomunitario che brandiva un grosso coltello. In pochi attimi la volante della Polizia di Stato, di rinforzo a Marina di Ragusa per i servizi di prevenzione e controllo del territorio, è arrivata sul posto individuando il soggetto indicato che alla vista degli agenti ha cercato di celare la lama pur continuando a impugnarla con la mano destra. I poliziotti, evitando il panico tra la gente, si sono avvicinati al soggetto e gli hanno intimato di fermarsi lasciando cadere l'arma che continuava a brandire. Dopo alcuni minuti di esitazione l'uomo ormai circondato e senza via di fuga non ha potuto far altro che mollare il coltello. A questo punto è stato bloccato dagli agenti che lo hanno subito perquisito e assicurato nell'auto di servizio. Il coltello di fattura artigianale della lunghezza complessiva di oltre 40 cm è stato quindi sequestrato. Una volta dentro l'auto della polizia, l'uomo, sotto l'effetto di sostanze alcoliche, ha iniziato a dare testate contro l'abitacolo. È andata in escandescenza anche all'interno degli uffici della sezione volanti, colpendo con una testata e una ginocchiata due agenti. Il tunisino, con fatica riportato alla calma, è stato fotosegnalato e tratto in arresto per violenza, resistenza pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello. Su disposizione del PM, Francesco Riccio, è stato tradotto al carcere di Ragusa, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria. È probabile che le intenzioni dell'uomo fossero rivolte nei confronti di un connazionale al momento rimasto ignoto. Le indagini sono quindi tuttora in corso.